Signore e signori bentornati sul mio canale qui del vostro Tonokit che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 2023 pronti per scendere in pista siamo in Ungheria signori e le previsioni danno pioggia per tutta la gara quindi sarà una gara bagnata, gara fortunata non credo proprio perché le qualifiche sull'asciutto non sono andate benissimo ho avuto il dubbio fino all'ultimo momento prima di scendere in pista non sapevo se cambiare o non cambiare le componenti però siamo messi abbastanza bene con le componenti e può darsi visto che siamo più o meno a metà forse questa è la gara di metà stagione che va a spezzare un po' a metà il nostro campionato non abbiamo tutto questo bisogno di componenti nuove quindi nonostante le qualifiche un po' così diciamo che non sono andate bene non ho voluto cambiare le componenti quindi partiremo da una posizione un po' lì a metà però con componenti vecchie ma ci sta attenzione la quazzone che c'è mamma mia andiamo a vederla però la griglia e c'è il buon Sainz là davanti davanti a Russell addirittura ma forse c'è stata una penalità per Norris che era secondo Leclerc, Lawson no, Norris è dietro, scherzavo oh Hamilton, Hamilton allora ha preso penalità eh sì signori partiamo dall'undicesima perché Lewis scala in dodicesima mi prende dieci posizioni e quindi siamo lì diciamo che anche Mercedes ha un deficit causato dal buon Lewis però signori dobbiamo essere pronti, cazzuti e cattivi perché sulla pioggia sappiamo comportarci meglio degli altri tra l'altro dovrebbe essere full wet, ottimo non abbiamo dati ovviamente con la full wet perché non abbiamo fatto prove libere assolutamente con gomme da bagnato vedremo, vedremo se effettivamente intanto qua mettiamo anche 4 giri di carburante fai 21,5 poi nel caso andiamo a fare un po' di lift and coast non abbiamo dati sulle gomme perché nelle prove libere abbiamo fatto solo abbiamo girato solo sull'asciutto praticamente quindi vediamo un po' come si comporteranno le gomme signori ovviamente il nostro assetto è quello famoso ormai di Miami che va bene sia con la pioggia che con il bagnato che con l'asciutto quindi oddio poi non è detto che magari qua in Ungheria vada bene per carità non lo sappiamo però vediamo gli diamo fiducia come abbiamo sempre fatto negli ultimi Gran Premi e vediamo un po' come andrà questa gara signori pronti scendiamo in pista ci proviamo all'esterno ne superiamo tantissimi però freniamo inderapata prima curva inderapata fai giù in discesa verso curva 2 teniamo all'esterno le clerk mamma mia che partenza no Charles si butta le clerk coraggioso mamma mia i rischi l'instabilità costo tempo costa macchina oggi mamma mia dobbiamo prenderci la mano non si vede quasi niente mano ai piedi soprattutto in queste condizioni c'è il rischio di fare un patatracca ad ogni curva siamo riusciti a partire senza oh troppi problemi piano adesso però andiamo di short shift se riusciamo senza attaccarci però diciamo che il nostro assetto è abbastanza aggressivo come al solito direi mamma mia come detto abbiamo qualche componente che è un po' usurata lo andiamo a vedere da questa schermata che potrei anche non mettere in curva magari infatti ce lo dicono anche loro cominciare a vedere una perdita di potenza magari c'è fatemi fare qualche giro prima mamma mia le difficoltà signori oggi nel gestire la nostra auto già è un circuito impegnativo lunga loring con la pioggia poi altro che impegnativo devi stare calmo che qua è difficile attivare la modalità sorpasso che altro non so disattivare la modalità drifting derapata attenzione Leclerc si è allontanato un po' forse non riesce a stare con noi e con questo gruppone che abbiamo qui davanti gruppone sono tre abbiamo il podio qui davanti devi stare calmo in posto di far silenzio che ha già rotto le balle questa modalità sorpasso e non ha capito forse che stiamo guidando sulle uova dobbiamo cercare di prendere un po' il ritmo e capire se ne abbiamo per prendere nordis ma sembrerebbe di no il massimo che riusciamo a fare è questo probabilmente oggi deve stare qui stare a ridosso ma non troppo vicini perché è veramente molto difficile guarda qua che ad ogni curva scivola via mamma mia complicatissimo forse ecco l'assetto non è dei più adatti però si vai di derapata adesso Norris è incollato all'Ouzon mentre Sainz sta cercando e sta anche riuscendo a scappare mamma mia facciamo il nostro miglior giro il nostro miglior settore ma non è comunque il giro record quindi non stiamo girando meglio degli altri è una gara un po' bloccata meno male che abbiamo avuto quello spunto incredibile in partenza abbiamo superato parecchie auto sette auto insomma all'undicesima alla quarta posizione in neanche una curva perché praticamente abbiamo superato tutti sul rettilineo nei primi cento metri anche di più di cento metri andiamo lunghi va bene non so quasi quasi spererei in un testacoda di qualcuno qua davanti con una bandiera rossa per poter ripartire dalla griglia che è lì allora facciamo una ripartenza fatta come si deve e magari superiamo anche le due McLaren la situazione non è ideale ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme ma non avevo dubbi guarda attenzione perché piano piano stiamo in qualche modo andando a prendere la coppia McLaren qui davanti piano piano ecco appena abbiamo sognato di prenderle subito l'errorino oh piano madonna sta derapata mamma mia che rischi che ci stiamo prendendo mamma mia che fatica anche no piano no piano piano c'è bisogno di esagerare e facendo facendo le cose con calma e circospezione comunque stiamo facendo bene science non lo prenderemo mai nella vita ma va bene lo abbiamo messo in conto ma almeno le due McLaren dobbiamo cioè possiamo e dobbiamo prenderle e superarle possibilmente ok con calma eh molta calma curva scodano un po' anche loro eh dobbiamo stare attenti perché la prima minima occasione alla primissima porta aperta dobbiamo approfittarne eh senza far danni ovviamente è l'Oson che sta andando piano in che sta davanti va bene non deve passare Norris ma dobbiamo essere noi ad approfittarne su Norris prima e sull'Oson poi questa poteva essere un'occasione ma non ho avuto abbastanza coraggio qua forse adesso attenzione bandiera gialla l'Oson l'Oson attenzione incredibile ben fatto hai conquistato una posizione lunghi in curva 1 Norris ripassa oh non può superarci maledetto pezzo di ma c'è la bandiera gialla ma ma scusatemi ma porca putta bandiera rossa bandiera rossa rallenta e raggiungi la corsia dei box per favore bandiera rossa signori meno male così cambiamo l'alettone mamma mia c'è andata bene posso dire che c'è andata bene ok va benissimo gomma nuova me lo cambiate l'alettone spero nel senso credo di sì no anche perché Norris è stato un po' un pezzo di merda c'è la bandiera gialla ci ha superati in realtà l'abbiamo fatto anche noi però non ci siamo perdere comunque ripartiamo così gomma gomma full wet direi di sì va bene pronti pronti è bellissimo tornare in pista però attenzione la ripartenza che volevamo no eh no non proprio così eh non la volevo proprio così andrà gialla attenzione è successo un casino Sainz penalità per attenzione penalità per Sainz Norris no Sainz fuori Norris non ho capito eh sto rallentando stai calmo cos'è successo signori sono toccati Norris e Sainz ho visto una penalità per Sainz ho visto un Norris che ha perso posizioni attenzione questa bandiera rossa forse manna dal cielo manna dal cielo per noi e poi safety car giusto per far passare un po' di tempo e per fare un po' di giri a vuoto dietro la safety car mamma mia signori sta succedendo di tutto anche qua in Ungheria mamma mia è importante questa cosa perché adesso dietro abbiamo le clerk che potrebbe rallentare e di parecchio Hamilton e tutti quelli dietro perché abbiamo visto che le clerk non aveva il nostro ritmo oltre ovviamente a mettersi tra noi e una Mercedes Hamilton anche lui che partiva dodicesimo si ritrova magicamente in terza posizione Norris è scivolato in quinta non so se ha qualche danno vediamo se magari rientra i box e Sainz invece credo che si sia proprio ritirato quindi non ci ha avvisato del ritiro del compagno vediamo però ok rallenta rallenta si stai calmo stai calmo vuol dire che stai andando troppo veloce rallenta benzina ovviamente ne avremo da vendere a fine gran premio ma dettagli adesso possiamo raggiungere la safety car ok e rientra i box infatti Carlos danni danni alla spiker di Carlos peccato perché potevamo tranquillamente superarlo cosa che avevamo anche fatto e siamo andati lunghi per carità ci sta e insomma potevamo effettivamente non puoi sorpassarla si vai tranquillo potevamo effettivamente fare una doppietta peccato ma andrò a vedere poi a fine gara cosa è successo tra i due spero che non sia no io non credo di essere stato coinvolto o quello che ha causato poi il contatto tra i due perché non mi sembra di essermi comportato in maniera scorretta vabbè lo vedremo in sala var insomma vabbè ci risintonizziamo quando la safety car deciderà di rientrare la safety car è in questo giro safety car in questo giro sarai tu a controllare il ritmo alla ripartenza mantienilo costante finché la safety car non avrà raggiunto la corsia dei box attenzione signori si riparte scaldiamo un po' le gomme prendiamo spazio dalla safety car e poi scegliamo un momento giusto per accelerare attenzione è ancora vietato sorpassare un po' di slittamento in uscita ma buona ripartenza prendiamo un po' di di stacco da chars mamma mia qua ci parte il posteriore in un modo allucinante infatti si riavvicina chars occhio occhio bisogna stare concentrati cosa che non stiamo facendo devi utilizzare il sorpasso devi stare zitto lo so ma devi stare zitto però vedete che le clare non ne ha dobbiamo solo gestire signori gestire comunque anche Norris con danni si è fermato sono in fondo al gruppo i nostri due rivali di questo inizio di gara dell'inizio di questa gara che adesso però si ritrovano in fondo al gruppone fuori dalla zona punti peccato per Carlos perché dopo la clamorosa e dico clamorosa ladrata dello scorso gran premio meritava un po' più di fortuna ecco mettiamola così mamma mia lo scippo che ci hanno fatto a Silverstone è una cosa clamorosa cioè a noi come scuderia e a Carlos come pilota una cosa indicibile piano però a fare queste curve perché è un attimo che dietro passa per sbaglio Hamilton e ci viene a prendere un secondo e uno il vantaggio su Leclerc che diventano uno e due con calma a fare questa curva e adesso con calma a gestire il resto della gara perché mancano sei giri dobbiamo solo gestire e non si fa così la gestione quindi devo anticipare le frenate soprattutto in queste curve maledette e soprattutto non stressiamo troppo il motore perché insomma non sta benissimo guardate là che l'ICE è abbastanza tranquillo 20 minuti siamo già in Italia non so mangiare a pasta e fagioli nel buon pedo signori cerchiamo di gestire dobbiamo fare solo questo quindi nel caso qualche tagliettino ovviamente è d'obbligo se non succede nient'altro perché insomma non è detto eh vista la pista vista l'atmosfera un po' bagnatina visto le difficoltà anche a tenere buona la nostra auto con questo assetto particolarmente aggressivo che però ci regala sempre delle gioie va bene e attenzione signori che col giro veloce entriamo nell'ultimo giro di questa gara piovosa e in questa seconda parte anche noiosa perché per carità è bello guidare al volante è bello guidare anche in queste condizioni molto particolari e difficili con un po' di concentrazione sono riuscito a fare un buon primo settore e da lì poi il secondo e il terzo sono usciti abbastanza buoni anche quelli abbastanza da fare il giro veloce in 1.32 487 signori non so quanto più basso rispetto al giro più veloce degli altri ma calcolate che Hamilton è riuscito a superare le Clerc tre giri fa al sedicesimo due giri fa il sedicesimo giro e era a 5 secondi da noi e abbiamo guadagnato quasi un secondo e mezzo quindi assolutamente avevamo più ritmo rispetto a quelli attualmente dietro di noi non so se col proseguire della gara qualora non ci fosse stata quella bandiera rossa saremmo riusciti a superare e a stare con Norris Lawson e soprattutto Sainz che comunque aveva preso un buon distacco nella prima parte di gara fatto sta signori che con qualche derapata di troppo è non necessaria onestamente stiamo per tagliare il traguardo salvo che non ce lo tolgano clamorosamente questo risultato come è successo a Sainz nella scorsa gara ma signori andiamo a vincere una gara bagnata una gara fortunata per fortuna questa volta bravi i nostri meccanici che oggi non hanno dovuto lavorare se non quando c'era la bandiera rossa quindi senza stress ma più che altro mantenere la pista abbiamo fatto qualche lungo ogni tanto adesso magari andiamo a vedere se è stata si va se ha chiesto le palle andiamo a vedere se effettivamente è stata un po' colpa nostra sull'incidente tra Sainz e Norris che ha causato poi la safety car a noi c'è nata molto di lusso che dopo il contatto con Norris e la rottura dell'alettone ci sia stata la bandiera rossa quindi quello per noi signori è stato davvero un colpo di culo possiamo dirlo però attenzione perché si stappa e si schizza sul podio insieme a noi il buon Lewis e il buon Charles compagni alla Ferrari nel 2025 lo ricordiamo bravi bravi bevete esultate festeggiate andiamo a vedere come si evolve la classifica signori perché siamo abbiamo guadagnato diversi punti su Russell che era è vista allora 32-4 giro veloce vediamo se è 32-5 Sainz e si è ritirato lo U-Zone con la bandiera rossa ah beh sì aveva fermato sul rettilineo la propria posizione ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica beh signori Sainz 32-5 correva di bestia anche lui noi 32-4 punticini in più portato in casa nostra in casa Spiker e classifica che dice signori sorpasso su George Russell e siamo al momento a più 16 classifica costruttori ci avviciniamo di molto siamo lì a tre punticini dalla Mercedes e quindi c'è bisogno di assolutamente andare avanti così a continuare a guadagnare poti a stare di mettere pressione alla Mercedes per conquistare la vetta anche nel costruttori bene signori sono molto soddisfatto però vedete che anche Ucon da 13-5 o Dewey da 12-2 ci ha guadagnato anche Dewey da tutto l'ambara da anche successo in pista andiamo avanti andiamo avanti mamma mia signori questo è il replay della ripartenza al giro 9 dopo la bandiera rossa guardate un po' quello che è successo perché non me ne sono minimamente accorto curva 1 noi andiamo un po' lunghi scivoliamo un po' ma Sainz fa un testa coda clamoroso e si pianta di muso con il buon Norris e da qui la safety car poi vabbè si sono compenetrati un po' tutti hanno reso trasparente il buon Sainz per grazia divina però è da qui il doppio danno sia a Sainz che a Norris all'alettone anteriore e quindi la safety car che tra l'altro è entrata compenetrando la Haas si esatto vabbè lasciamo perdere queste cose vabbè questo è quello che è successo signori alla prima curva rivalità vabbè senza storie con Ocon e la sua Alpine andiamo a vincerla ci chiederanno un'altra rivalità immagino penso con un con Mercedes forse non lo so però magari la rendiamo un po' più pipata senza sbattere contro un altro veicolo e il problema è che ci vengono addosso loro no in realtà ho visto anche il replay del contatto con Norris con sì con Norris era sì con Norris sul ritiro di Lawson e niente signori ci siamo effettivamente ributtati in pista senza guardare molto a dove fosse Norris e ci stava lì ci stava effettivamente che fosse un errore nostro ci sta ci sta comunque comunque andiamo a dare un po' di sostegno festeggiamento podio bisogna farlo spot promozione pilota va bene poi evento resistenza allora fama della scuderia più 2000 non sto neanche a leggere dammi la fama grazie arrivederci guardate come traballa tutto ma non so se sia normale che traballi così la scocca del comunque abbiamo 9 milioni in realtà noi ne servivano credo 10 forse minimo per esatto aumentare il reparto resistenza che è l'unico che ci manca da maxare quindi aspettiamo di avere i soldi non possiamo fare nessuna ricerca e sviluppo perché abbiamo completato tutto negli altri reparti e qua dobbiamo appunto aumentare quella che è il livello della struttura è arrivato potenziamento dal fornitore attuatore wastgate ok che ci danno in automatico ottimo gli altri arriveranno poi mano a mano col calendario 7 settembre 5 ottobre 16 novembre praticamente a campionato finito ma dettagli va bene va bene direi che possiamo essere soddisfatti della nostra gara di oggi assolutamente dispiace un po' per science ma ha fatto tutto da solo abbiamo visto nel replay prossimo gran premio signori si va a spa con tanto di sprint quindi signori va bene ma non ce lo devi spiegare ogni volta sono tre stagioni e tipo tre giochi che ce lo spieghi perciò puoi anche evitare comunque signori io come sempre vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un like un commento a sostenere il canale a sostenere la nostra spiker che si sta facendo largo in classifica e sta puntando la vetta siamo soli tre punti da mercedes dobbiamo approfittare assolutamente del circuito del belgio di spa perché è un circuito a noi di solito favorevole vediamo vediamo anche se il tempo sarà clemente stavolta e nulla con questo è tutto signori ci vediamo con un prossimo video alla prossima ciao ciao